Berretti, berrettini, foglietti, teneteli ben saldi perché potrebbe succedere che con il turboelica vadano a finire, quindi se qualcuno ha il pass che si mette in tasca è una questione di sicurezza. Lo stesso se c'è un berrettino, un berretto, magari tenere la mano in testa, vedrete che lo toglieremo anche noi per la questione di sicurezza. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.